La furia della piena a Monteforte Erpino in via Riverano è simboleggiata da quest'albero stravolto dalla colata di fango e detriti all'interno del canale che arriva dalla montagna in compagnia di Gerardo che ha subito ingenti danni, per fortuna però siamo qui a raccontarlo. Qui c'è qualcosa che non va, nel senso che sotto i nostri piedi c'è un canalone ormai stracolmo e qui che bisogna intervenire anche per il futuro. Eh sì, dico questo non solo per me ma pure per la popolazione intera perché non sono stato solamente io danneggiato. Io vi parlo di anni indietro, 60 anni fa, 70 anni fa perché io lo so, sono della zona che so il problema. Se girate la telecamera cortesemente verso quell'albero là, il corso d'acqua... 60 anni fa è stato deviato, lì c'era un canalone dove l'acqua defluiva, oggi invece c'è terreno e l'acqua va invece lungo questo canale che il nostro operatore Cristian Favalle sta inquadrando e porta via verso il fenestrelle e il punto però è che in questa curva evidentemente con la potenza dell'acqua, con tutto quello che sostruisce, poi arriva la piena. Arriva la piena perché arrivata ad un certo punto, se vogliamo parlare, ve l'ho detto pure camminando, venendo qua, se vogliamo parlare di Formula 1, tu se prendi sta curva a 50 all'ora va benissimo perché tu ce la fai tranquillo, la giri e te ne vai. Ma se arrivi da qua sopra a 300 all'ora non ce la fai e fai l'incidente, ecco qua, l'incidente dove è andata a sbattere, questa, chiamavano macchina, è andata a sbattere nella curva, ma pure all'ora se erano intelligenti qua mi devi e vai da questo punto, ma se andavano di qua questo non succedeva. Devono eliminare questa curva oppure fare le sponde alte due metri che l'acqua non mi viene là dentro.